Se dovessi tornare indietro nel tempo non farei qualcosa di differente, nel senso che sono soddisfatta delle scelte che ho fatto. Magari mi darei un consiglio di essere ancora più sicura di me stessa e di osare ancora di più, nel senso che magari soprattutto nella fase iniziale, forse appunto perché in quanto donna in un mondo di uomini ero un po' più timida e invece oggi ho imparato appunto che siamo tutti uguali e che quindi magari potevo usare anche di più. Se penso a me a 25 anni quando ho iniziato a lavorare in gada, nei primi anni mi sono fatta guidare parecchio dalle paure, penso che sia anche abbastanza normale. Darei a me questo consiglio e anche ai giovani di seguire un po' di più, di ascoltare un po' più i desideri, perché i desideri, quelli veri, ci guidano e ci guidano bene. Il consiglio che darai la me stessa giovane è proprio quello di sviluppare al massimo le proprie competenze e di scegliere la propria strada per seguirla, accettando le responsabilità che ne derivano ma soprattutto studiare e apprendere perché poi è quella la chiave.